Il Ponte del Diavolo, Ponte della Maddalena, è senza dubbio il monumento simbolo, la porta d'ingresso della Valle del Serchio, nonché conosciuto in tutto il mondo. Le condizioni dell'imponente struttura in questi anni evidenziavano la necessità di interventi finalizzati alla messa in sicurezza di alcune parti del secolare ponte. Fu il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizia Andruccetti e il suo staff a segnalare la necessità di intervenire. A seguito di questo appello, grazie all'Art Bonus, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e ad altre forme di raccolta, si è potuto intervenire sui primi due archi del ponte. Inoltre, da alcune settimane si è appreso che l'ente di programmazione economica del governo Gentiloni, per mezzo del Cipe, ha finanziato interventi per oltre 300.000 euro. La notizia è stata accolta con soddisfazione da tutti gli abitanti della Valle, in maniera particolare dalla locale sezione dell'Istituto Storico Lucchese di Borgo a Mozzano. La notizia è importante non solo per noi, penso per tutti, perché il lavoro dello storico è sì quello di fare ricerca, ma camminare in parallelo anche poi con la bellezza del monumento, che chiunque ne possa godere e al contempo conoscerne la storia che noi riusciamo a mettere su carta, magari con delle pubblicazioni che sono state fatte anche in passato. In genere, i monumenti assumono importanza e prestigio per la loro bellezza, ma anche per il loro spessore storico. Per il Ponte del Diavolo è differente, anche perché qui la leggenda supera la storia. Sì, la leggenda sicuramente ha reso il ponte famosissimo, diciamo ovunque, e la storia invece è un'incertezza, è un vero e proprio mistero. È proprio questo mistero che invita e incita ancora di più gli studiosi a approfondire la ricerca su questo monumento. Ecco perché è un monumento ancora molto vivo, perché la ricerca non finisce mai, non c'è niente di certo in questo ponte. C'è un si dice, forse, forse di origine romana, forse l'ha fatto Matilde di Canossa, però le certezze, le fonti ancora non sono state trovate e il compito dello storico, dello studioso è proprio quello di cercare e trovare fonti certe e per quello che ancora è di grandissimo stimolo.